Vi auguro una buona giornata e buon weekend. Il messaggio di oggi è sii te stesso. Sei una persona meravigliosa, sii felice di essere te stesso. A volte forse ti domandi se piaci agli altri. In certe occasioni potresti fingere di essere diverso. Per esempio cerchi di comportarti, parlare o vestirti come qualcuno che ammiri. Questa carta dice che sei fantastico in questo preciso momento. Non hai bisogno di agire come un altro. In effetti se sarai semplicemente te stesso le cose andranno molto meglio e ti sentirai più felice. Il problema potrebbe non venire da te ma dalle persone che ti circondano. Forse sono loro a cercare di cambiarti. Il cambiamento fa parte della vita e possono esserci comportamenti da migliorare. Ma assicurarti di non voler cambiare per diventare una persona diversa. E sappi anche che i veri amici ti amano per come sei e non cercheranno di trasformarti in una persona nuova. I veri amici ti chiederanno di abbandonare abitudini dannose. Non di cambiarti in modi che ti facciano stare male con te stesso. Passa più tempo con amici veri invece di stare con persone che non ti capiscono. Questa carta ti dice anche che le cose andranno molto meglio quando ti fiderai del tuo istinto. Nel tuo cuore sai già che cosa fare. Fidati di questa verità interiore e agisci di conseguenza. Grandi invenzioni, libri e attività nascono quando si segue la propria voce interiore. Anche tu sei qui per fare la differenza nel mondo e il miglior modo per assolvere a questo compito è essere fedele a te stesso. Questo è il messaggio del buongiorno.